Tre decessi per overdose in tre mesi nel territorio di Piscia hanno dato il via ad una vasta operazione antidroga condotta dagli uomini e dalle donne dell'arma dei carabinieri, che ha portato martedì mattina 15 novembre all'arresto di 11 persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed anche della morte di un uomo. L'attività investigativa, condotta dalla stazione dei carabinieri di Pesce e diretta dalla procura della Repubblica di Pistoia, si è sviluppata dal mese di dicembre 2021, a seguito del decesso di un uomo di 40 anni, romano, per cause legate all'uso di eroina. L'uomo, ospite di una comunità terapeutica della Val di Nievole, era stato trovato morto all'interno della sua camera da altri ospiti della comunità ed i successivi sopralluoghi dei carabinieri avevano permesso di rinvenire nella sua stanza una piccola quantità di eroina non ancora consumata. Le risultanze degli accertamenti medico-legali confermavano la connessione tra la morte e l'assunzione di eroina, inquadrando l'evento come terzo decesso per overdose avvenuto nel territorio di Pescia in tre mesi. Le successive indagini hanno permesso di accertare che l'eroina in questione gli era stata ceduta da un altro ospite della comunità, anche egli italiano di origini venete, che aveva contatti frequenti e diretti con altri spacciatori della Val di Nievole, peraltro utilizzando l'auto di servizio della comunità. Sul suo conto è stata dunque emessa un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro reato. Le indagini si sono poi ampliate andando ad individuare un gruppo di otto giovani di origine nordafricana con base operativa nella zona della stazione ferroviaria di Montecatini Centro e altri due italiani, un 58enne residente a Monsumano Terme e una donna 36enne residente a Montecatini Terme. Questi ultimi dediti al cosiddetto spaccio di piazza che riforniva decine di clienti, anche giovanissimi. Nel corso delle indagini, durate circa sei mesi, sono state accertate quasi 2.000 cessioni di stupefacenti, pari ad un corrispettivo di circa 70.000 euro. A conclusione delle attività investigative, nella mattinata di martedì 15 novembre, 40 carabinieri della compagnia di Montecatini Terme hanno dato quindi esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare emesse dall'autorità giudiziaria, traendo in arresto sette degli undici indagati, poiché i quattro di essi si sono sottratte alla cattura trovandosi all'estero.